salve sono luca cai dell'osteria tripperia in magazzino di firenze situato in piazza della passera siamo qui nel padiglione di italy all'expo milano e noi rappresentiamo la toscana per tutto il mese di giugno abbiamo portato proprio le nostre specialità toscane partiamo dalla finocchiona partiamo dalla tale se del valdarno che è un salume tipico valdarnese veramente tutta la pancia del maiale è fatta come la pancetta però con delle spezie molto particolari pecorino toscano e non poteva mancare il crozzino di fegatino poi abbiamo io sono trippaio abbiamo portato la trippa alla fiorentina e la serviamo con i fagioli zolfini toscani lampo edotto con la salsa verde e poi la scammerita la scammerita alla griglia e tutti lo conoscono come capocollo diciamo grigliata servita con degli spinaci e betola un piatto contadino toscano vi aspetto qui a milano padiglione italy ristorante toscana con i nostri prodotti tipici toscani